Sei nervoso? Prova l'aromaterapia. Stati nervosi, forme di ansia momentanee possono essere ben gestite attraverso l'aromaterapia. Vediamo quali oli essenziali parlano al nostro sistema nervoso. Ci sono condizioni di ansia apparentemente ingiustificata, forme di nervosismo date da stress, fretta, preoccupazioni per il lavoro. La vita è spesso così frenetica che a un certo punto possono letteralmente saltare i nervi per un non nulla. Aiutiamoci con un semplicissimo rimedio dell'aromaterapia, l'olio essenziale con i suoi magici poteri, piacevole, profumato, sua dente che può allentare la tensione e permetterci di tacheiteasi, magari con un sorriso. Vediamo alcuni oli essenziali molto diversi fra loro per caratteristiche, ma d'altro canto il nervosismo è generato da cause differenti. Olio essenziale di lavanda, già il colore della lavanda è di suo rilassante. Porta con sé memorie passate, il profumo del fresco e del pulito, la campagna provenzale e la sua immagina evocativa di tranquillità, cose semplici e ritmi naturali. Il suo profumo dolce e floreale distende i nervi, seda le ansie, riequilibra il sistema nervoso. Le proprietà della lavanda sono innumerevoli e il suo olio essenziale ne potenzia la validità, è antinfiammatorio, antisettico, antispasmodico, ideale per tutti disturbi di natura psicosomatica generati da condizioni di stress prolungato, come mal di testa, tensioni cervicali, insonnia, coliche, irritabilità. Poche gocce di olio essenziale di lavanda in un diffusore di aromi, per permeare l'ambiente in cui viviamo, o sul cuscino del sonno, sono sufficienti per arrivare nel nostro profondo e aiutarci a ritrovare la calma e contrastare il nervosismo. Olio essenziale lavanda, olio essenziale di gelsomino, Il gelsomino possiede un profumo molto intenso, dolce e non a tutti può piacere. È un olio essenziale di cuore, che parla alle nostre emozioni, alle vibrazioni di pancia che risuonano nel nostro baricentro. Possiede proprietà sbloccanti, scioglie cioè i blocchi emozionali, legati soprattutto alla sfera sessuale e sentimentale. Parla al sistema ormonale ed è quindi molto efficace contro le sindrome premestruali, cali d'umore, apatia, irritabilità. Ristabilisce i giusti toni, stimola la produzione di endorfine, aiuta a ritrovare il buon umore. L'olio essenziale di gelsomino è molto femminile, diffuso nella cultura cinese e legato alle forme di seduzione elegante e raffinata. Qualche goccia in un bagno caldo rilassante, o in un diffusore per inebriare e inebriarsi. Olio essenziale gelsomino, olio essenziale di arance dolce, l'arancio dolce ha un profumo che rapisce, non a caso è un olio essenziale di testa, che arriva alla sfera mentale in maniera molto diretta. Quando lo si respira non si smetterebbe più di annusarlo. Il suo profumo fresco e fruttato inebria, avvolge, solletica la fantasia. Possiede proprietà antispasmodiche, digestive, sedative e defaticanti. L'olio essenziale di arance dolce è molto fisico, rilassa le tensioni muscolari, facilita la digestione, combatte i ristagni intestinali e il meteorismo, contrasta gli stati di stanchezza da stress e aiuta il sonno. Le sue proprietà si riflettono a livello mentale, rilassa il sistema nervoso, facilita la digestione delle situazioni difficili, defatica la mente e le permette di riposare e dormire. L'olio essenziale di arance dolce può essere usato in un bagno caldo o in diffusore d'ambienti. Olio essenziale arance dolce, olio essenziale di limone. Il profumo del limone è conosciuto da tutti e per questo facilmente riconoscibile. È agrumato, accattivante per le sue note dolci e persistenti. È un aroma di testa, indicato a sciogliere le tensioni mentali, i pensieri circolari e ingolfanti. Ha proprietà purificanti ad ampio spettro e se è vero che il nostro cervello è analogicamente speculare al nostro intestino, l'olio essenziale di limone è ideale per depurarlo da idee inutili, di scarto, putrefattive per la nostra libertà di pensiero. Svolge la sua azione calmante a livello del sistema nervoso centrale, contrastando stati di ansia, nervosismo e insonnia. Stimola la memoria, la circolazione sanguigna e linfatica. Sblocca la stasi venosa e i ristagni ed ematosi. Poche gocce in un diffusore per ambienti, o in un olio vettore per un semplice massaggio alle gambe e alle braccia.